Ok, furgone in vista. Dove mi lascono, amico, e fuori a voi! Facciamolo a spezzi! Fiamo, fiamo! Fiam! Che chingados! Ok, sono al fru... ma il Netrunner non c'è. Vedo quello che vedi. Niente chiacchiere. Interfacciati con il furgone. Già che ci siamo, ti dispiace dirmi cosa cerchiamo? La mappa del flusso dati di Pacifica. Cercano l'Awe. Chi sarebbero loro? La Netwatch. Cercano sempre di fotterci. Quanto è grave la cosa? Non so quanti dati abbiano raccolto, ma la loro mappa è incompleta. Non c'è ancora convalida della fonte. Che cosa cercano esattamente? Portezze telematiche interne. Se infrengono i nostri AES controlleranno l'Awe e l'intera rete. Torneremo ai tempi oscuri di Bartmos. Ok, perciò cosa devo fare? Raggiungi la gente. Sarà facile trovarlo. Guarda la mappa. Lui è nel cinema. Torna indietro. Questa non è la tua guerra. Matt. Cosa? Placid che c'è? Siamo tagliati fuori. Il Netrunner sa che sei qui. Trovalo. Non possiamo bruciarlo via rete. Deve essere collegato al furgone. Non posso passare le sue protezioni. Devi trovarlo. Affrontarlo. Riferirei non dichiarare guerra a Netwatch. Non lo farai. Lo farò io. Tu sei solo un messaggero. Lui è il cuore. Dobbiamo strapparlo via. Ehi, non aver paura! L'agente cerca di tagliarti fuori. C'è una saracinesca dietro la camionè. La apro. Ok, ora va al cinema suo al secondo piano. Occhi aperti. Che cosa succede? Stai per avere compagnia. Scarsionala subito. È pericolosa. Deve avere un punto debole. Nessuno di loro avrebbe mai ucciso tanti del mio branco. No. «Viriferi». Dasena cose sc страх. C'è una preoccupazione così. Va a capire di due sterile. No, non ho detto questo Dico soltanto che devi sbrigarti Vieni qui, fatti sotto Vieni qui Vieni qui No È il mio Non ti basta Non ti faccia spedse, cazzo No Vieni qui 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 Chiudi quella bocca Vieni qui 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 Avanti, se vogliamo combinare qualcosa devi sbrigarti Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Parla Ma non vogliamo distrazioni Giusto? Credo proprio che mi atterro al piano Vieni qui Vieni qui Vieni qui ents Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Dammi un secondo Poi Che Giorno Vieni qui Vieni Tu che dici? I voodoo hanno giocato sporco, ti hanno fregato. Ti hanno usato come un drone kamikaze. Sarà il premio per averli aiutati. Se fosse stata la Netwatch, Flatline Army, i voodoo potrebbero non sapere che sono vivo. Allora Placid si illuminerà come un albero di Natale nel vederti tornare. Forza, torniamo al Bettis e chiudiamo questa storia. Bastardo, spero gli piacciano le sorprese.